Promovol Sanitars Bienno esce sconfitta dalla gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C FIPAV, disputata in casa contro la Walcor, Wally Soresinese con il risultato di 1-3. Il primo set inizia con Marinoni, Beschi, Tomasi, Basalari, Gunnar, Piantoni e Bertoletti in campo. Decisione dell'ultimo secondo per Promovol, un cambio di palleggio a causa della situazione fisica non ottimale di Di Giulio. Promovol parte bene, le avversarie chiedono immediatamente un tempo sul 2-0. Una serie di ottime giocate portano il risultato in vantaggio per Promovol sul 7-4 ma le avversarie portano l'esperienza in campo e recuperano prima andando sul 10-8 e poi sul 12-11. Le avversarie della Walcor chiedono il secondo tempo sul 16-11 con le biennesi che si mantengono abbondantemente in vantaggio. Taramelli, allenatore della Promovol Sanitas di Bienno, chiama il tempo sul 17-14 dopo un buon recupero delle ospiti. Il buon gioco continua e le padroni di casa si mantengono avanti fino alla fine del set nonostante il carattere delle ospiti con Marinoni che segna il set point sul risultato di 25-22. La Promovol Sanitas di Bienno non cambia il sesteto titolare all'inizio del secondo set ma la gara cambia e il parziale è più equilibrato. 3-3 serrato all'inizio del secondo set e sul 3-6 le padrone di casa paravano un cambio con Sandrini su Tomasi. Il set scorre liscio per le ospiti che sul 9-14 vedono le biennesi poco concentrate e se ne approfittano. La gara continua fino al 12-20 quando Taramelli chiama il secondo tempo. Sul 14-23 avviene un doppio cambio con Di Giulio e Rozzini su Basalari e Beschi per la Promovol ma non c'è concentrazione in campo e il set finisce sul 14-25 per la Walcor. All'inizio del terzo set entra Di Giulio al posto di Beschi mentre le altre restano invariate dal sesteto titolare. Partenza ancora in equilibrio sul 3-3 avanza la Promovol sull'8-5 ma le ospiti arrivano al 9-9 e l'equilibrio si mantiene fino al 12-12. Sul 13-16 viene chiamato il primo tempo da Taramelli sul 15-20 doppio cambio per Promovol con Beschi e Sandrini su Basalari e Di Giulio. La gara continua per le padrone di casa che non riescono a buttare giù la palla e il risultato si attesta sul 17-23 per le ospiti. Il tecnico d'avversario chiama tempo sul 20-24 per chiudere la pratica e ci riesce sul risultato di 20-25. All'inizio del quarto e ultimo set il sestetto rimane invariato rispetto al precedente con un solo cambio, Rozzini al posto di Basalari. Le avversarie partono meglio con il risultato parziale di 2-5, doppio cambio sul 3-7 con Beschi e Basalari su Rozzini e Di Giulio. La gara si mantiene serrata con un divario minimo sul risultato di 7-11. sull'11-16 Johnny Taramelli chiama il primo tempo per Promovol e torna a chiamarlo sul 13-20 ma le ragazze di casa non riescono a riprendere in mano la partita che scivola via in modo definitivo sul risultato finale di 15-25 e sull'1-3 di fine gara.